Sarà messo in scena fino a sabato 23 ad Andrea presso il pub sottosuono SMAC, lo spettacolo teatrale della compagnia Act Teatro nell'ambito del Fringe Festival, la rassegna teatrale che conta 26 spettacoli delle compagnie indipendenti che si esibiscono in location alternative e comunque non deputate agli spettacoli teatrali. Mi interessava molto indagare il mondo femminile e non da maschietto, per cui c'è un lavoro a monte abbastanza complesso dove io ho pregato i miei colleghi, i miei attrici con cui ho lavorato tanti anni fa di parlare di cose anche un po' scabrose, ma soprattutto di farmi capire che cosa veramente una donna pensa del sesso, dell'altro mondo o come interagisce e francamente ho scoperto cose per me nuove. Unica interprete dello spettacolo SMAC è Silvia Mastrangelo. La protagonista si chiama Sara Mucari, il personaggio si chiama Sara Mucari, una donna altoborghese, figlia d'arte, che vive claustrofobicamente se stessa, cercando appunto di costruirsi una maschera nel vivere quotidiano, ma nel suo privato tira fuori un universo di cose, di frustrazioni, di difficoltà. E quindi andiamo a sfiorare nello spettacolo, in questo dialogo non dialogo.